Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia della TGR. In apertura il caso Ferriera di Trieste che torna prepotentemente alla ribalta dopo le dichiarazioni di Giovanni Arvedi, fondatore dell'omonimo gruppo proprietario dello stabilimento siderurgico. Ai sindacati ha minacciato la chiusura se non dovesse cambiare il clima ostile nei confronti dell'attività. Un ricatto, secondo il sindaco di Trieste, di piazza. Il servizio è di Anna Vitaliani. Questo tipo di dichiarazione arriva come un fulmine a Cessereno. Con volto preoccupato ai nostri microfoni parla di ultimatum totalmente inaspettato Antonio Rodà, segretario provinciale della Wilm. Lui c'era ieri all'incontro in Ferriera, richiesto da siderurgica triestina ai sindacati, un consueto incontro di inizio anno che invece si è chiuso con un out-out. Il cavaliere Giovanni Arvedi, proprietario della Ferriera di Servola, ha detto chiaramente o il clima politico nei nostri confronti cambia oppure chiudiamo, tradotto, a rischio 550 posti di lavoro diretti più oltre 200 persone nell'indotto. E mentre i sindacati proprio in queste ore stanno incontrando i lavoratori alle 16.30, iniziate infatti l'assemblea all'interno del sito industriale, tra le istituzioni c'è poca voglia di parlare. No comment per Deborah Serracchiani, presidente di regione, ma soprattutto commissario all'area di crisi. Secondo indiscrezioni, ieri pomeriggio avrebbe incontrato personalmente il cavaliere Arvedi. A parlare invece di ricatto alla città di Trieste, il sindaco Roberto Di Piazza, che si sta battendo con forza per la chiusura dell'area a caldo, in una nota stampa spiega il Comune sta solo cercando di tutelare la salute dei cittadini, accertandosi che l'azienda ottemperi alle prescrizioni imposte dall'accordo di programma. Intanto i sindacati, CGL e Cisleville, chiedono un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi possiamo solo andare al governo a chiarire i fatti, a chiarire le intenzioni dell'azienda, a chiarire ovviamente il ruolo che le istituzioni locali vogliono avere su questo importante sito produttivo. E c'è fretta perché Arvedi ha parlato di possibile blocco dei rifornimenti a partire dal 28 febbraio. Le attuali scorte di materie prime quindi permetterebbero di proseguire l'attività per soli altri due mesi. Lui ovviamente dice di aver fatto gli investimenti, ce li ha contestualizzati, di aver abbattuto le emissioni e quindi comprensibile il suo sfogo, tuttavia ovviamente quando si dichiara che si è pronti a cessare l'attività produttiva è un fatto grave perché di mezzo ci sono le famiglie e ci sono i lavoratori di quell'azienda.